Il progetto è nato ormai anni e anni fa, ma continua ad accumulare ritardi e procede a singhiozzo, rischiando di avanzare di proroga in proroga, dopo che i sindaci di Montesilvano e Spoltore, De Martinis e Di Lorito, hanno chiesto di spostare la scadenza al 2027. Eppure, insieme al capoluogo adriatico, i due comuni dovrebbero fondersi in una cosa sola, secondo quanto già approvato a maggioranza dai cittadini. Per l'associazione Nuova Pescara non solo si perde tempo, ma anche e soprattutto denaro. Loro dicono che comunque non si perderebbero i fondi, è così? No, no, secondo me è proprio il contrario, perché si perderebbero i fondi e si perderebbe l'occasione. Io ho letto la delibera del comune di Montesilvano e non credo che abbia le gambe per camminare. Peraltro si chiede genericamente un rinvio, ma faccio presente che il rinvio è già previsto dalla legge, perché quella che era la scadenza naturale, primo gennaio 2022, è stata posticipata a primo gennaio 2023 per gli effetti del Covid e altri ritardi, ma nella legge prevede anche un ulteriore anno, quindi primo gennaio 2024. Adesso arrivare al 2027 è senza senso, assolutamente senza senso. Io non credo che il comune di Pescara possa appoggiare questa cosa qui e avrei anche perplessità che la regione si muova realmente su questo binario, perché ci sarebbe da giustificare troppo con i cittadini. Quello che andava fatto e che è stato fatto, ma non da chi governa, è quello di andare a Roma a chiedere i soldi. Adesso i soldi ci sono, noi abbiamo fatto due calcoli. Andiamo anche oltre quelli che erano i nostri calcoli, perché nel giro di dieci anni solo di maggiori rimesse dallo Stato, parliamo di più di 100 milioni di euro. Poi ci sono i soldi della regione, poi ci sono i risparmi derivanti dalla fusione, poi ci sono i soldi del PNRR. Se vogliamo mandare tutto a malora per salvare qualche posticino, credo che si commetta un autentico delitto. Ripeto, questa richiesta non ha le gambe per camminare e poi sarebbe una testimonianza di inefficienza che credo che la politica non si possa permettere. Non si può essere ostile a una fusione che è stata stabilita a un referendum e da una legge, a meno che non ci si voglia dire che qui le leggi non vengono rispettate, ma mi sembra un concetto fortemente antidemocratico è pericoloso. Nel prossimo anno Nuova Pescara prenderà dallo Stato 5 milioni di euro. Cioè, perché bisogna ritardare questo processo qui?